Che cosa ci faccio io a Rio de Janeiro? Ma piuttosto che cosa ci fate voi ancora in Italia? Vedi, ve lo dico tutto bello, rilassato, sereno, tranquillo, nonostante il mio lavoro, alcune volte mi stresse. Allora, questa è l'occasione che stavi aspettando. Il 31 maggio alle ore 7 a Milano ci sarà la prima wake up call per imprenditori, professionisti e intermediari, soprattutto del web. Quindi che cosa farò il 31 maggio a Milano alle 7? Ci sarà un evento dal vivo al centro di Milano dove spiegherò a tutti come si fa ad internazionalizzare te stesso. Quindi tendenzialmente continuerò l'opera di divulgazione che ho cominciato con il mio libro, che ho iniziato con il mio libro l'anno scorso, Abbandona l'Italia e salva te stesso. Chiaramente nel video con il titolo lo leggete all'incontrario, ma tanto se siete i miei seguaci sapete esattamente di che cosa sto parlando. Per cui ricordatevi questa data, questo video ho dovuto girarlo assolutamente, altrimenti il mio responsabile marketing mi avrebbe licenziato, lui a me, perché è un po' che non posto. Quindi il 31 maggio alle 7 a Milano ci sarà questo evento, lo ripeto, straordinario, internazionalizza, è molto difficile da dire, ma è più difficile, è molto più semplice da fare. Internazionalizza te stesso, quindi saranno due o tre ore nel corso delle quali io vi spiegherò esattamente quali sono le vostre possibilità di sfruttare tutto quello che accade al di là del confine italiano. Per cui conti correnti offshore, piuttosto che geoarbitraggio, piuttosto che incrocio di sistemi territoriali. Quindi vi spiegherò che cosa fanno gli imprenditori che si sono già trasferiti all'estero e come hanno ottimizzato, hanno massimizzato, quindi tendenzialmente come fanno a pagare meno tasse, detto in parole povere, coloro che se ne sono già andati dall'Italia. E vi spiegherò però allo stesso tempo come potete fare, che cosa potete fare, se invece avete deciso di rovinarvi la vita e rimanere in Italia. Chiaramente adesso sarò soggetto a qualche critica, ma va bene così. 31 maggio alle ore 7, non vi dimenticate, sono già aperte le prevendite per quanto riguarda la vendita dei biglietti, li trovate al link qui sotto, vi aspetto numerosi.